Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Diciamo che stavo guardando fuori perché questa ondata che arriva dal nord Europa sfiora ed è tangente alla regione nella quale vivo e il risultato è che ci sono delle giornate soleggiatissime senza una nuvola con 20 gradi che arrivano nel pomeriggio, 21 ieri e io ho preso la freddola. E va bene, intanto guardate il dato del CO2, è impressionante, io veramente mi stavo augurando che non crescesse oltre, invece abbiamo il secondo dato più alto mai registrato nella storia delle registrazioni del CO2, abbiamo sfondato 416 parti per milione, c'è di che essere molto preoccupati, vediamo se un picco come è avvenuto lo scorso anno col picco di 418, cioè tra virgolette un picco totalmente anomalo dalla statistica o se invece è una tendenza che mi auguro non abbia a ripetersi. Envy News di oggi, ieri il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, del Ministro Costa, ha pubblicato sul proprio sito internet, se voi andate argomenti, rifiuti, cliccate, esce recepimento direttive, rifiuti, cliccate su recepimento direttive e trovate i documenti di lavoro, predisposti dagli uffici, dalla direzione competente che se ne sta occupando, quella per l'economia circolare, i documenti di lavoro fino ad oggi elaborati per il recepimento del cosiddetto pacchetto per l'economia circolare, pacchetto pubblicato dall'Unione Europea nel 2018, gli stati membri hanno due anni per recepirli, tutti stanno lavorando, c'è chi un po' più avanti, chi un po' più indietro, il Ministero dell'Ambiente aveva deciso di farsi accompagnare per l'analisi e la stesura delle bozze da una serie di gruppi di esperti, sono 14 i gruppi, dagli imballaggi alla responsabilità estesa del produttore, l'endowaste, i rifiuti organici, alla prevenzione del marine litter, diciamo, sono 14 gruppi, io ho la fortuna di essere stato nominato tra gli esperti e seguo 7 di questi 14 gruppi, i documenti di lavoro redatti dagli esperti, dai funzionari e funzionarie del Ministero dell'Ambiente, dal risultato di alcune consultazioni con i portatori di interesse, ripeto, da ieri sono pubblicati sul sito internet. L'invito che faccio a tutti, quindi usiamo la Envy News anche come pubblico servizio, e non solo come servizio di informazione totalmente gratuita, ma come pubblico servizio, l'invito è quella di, se c'è qualcuno interessato, qualcuno che ha dei suggerimenti, anche un interesse particolare da proporre, di inviare i propri contributi. C'è un indirizzo di posta elettronica, direttiverifiuti.chiocciolaminambiente.it, lo trovate però sul sito, e vi invito a farlo perché è il momento giusto, è il momento opportuno, poi gli uffici con i tavoli degli esperti rielaboreranno i contributi e le osservazioni ricevute, e predisporranno, diciamo, il testo in bozza definitivo da sottoporre al Ministro. Ricordo che fa parte di una legge delega, quindi non è previsto il dibattito parlamentare, proprio come recepimento della direttiva, il Governo è stato delegato, e quindi è, ripeto, il momento giusto per chi ha suggerimenti, contributi, interessi particolari di farli avere. Se ricordo a memoria, il termine ultimo di recepimento per gli Stati membri è il 3 di luglio 2020, quindi ci sarà un mesetto, un mesetto e mezzo ancora di elaborazione contenutistica, e poi bisogna dare la forma legislativa definitiva, con tutti i pareri legislativi per poi andare in approvazione. Quindi vi invito, ripeto, a guardare e leggere i documenti e far pervenire le vostre osservazioni, perché sono certamente utili per migliorare quanto è stato fatto fino ad oggi. Speriamo che invece il CO2 riduca perché sono veramente preoccupato. Buona giornata a tutti, ciao!